Per la narrazione, secondo me, non da Giletti come persona, chiariamo subito questi aspetti perché niente diventa personalistico. Se lei chiama l'ordine e chiede il provvedimento nei confronti ce l'ha anche con Giletti. Per la narrazione errata, a mio avviso, dei fatti. La narrazione errata che è stata fatta e scaturita quella sera e poi nella puntata successiva, che mi pare sia stata la domenica, proprio immediatamente dopo. Perché è una narrazione sbagliata? A mio avviso, sempre, o comunque da giornalista dei fatti, innanzitutto io parto da adesso. Lei, Giletti, continua a dire, e questo senza voler personalizzare le cose, che Lino Polimeni è un giornalista. Lino Polimeni non è un giornalista, lo dice lui stesso. Guardi, per me giornalista non vuol dire avere il patentino. No, però... Lino Polimeni è un collega che ha un grande forza con programma televisivo in una regione dove dire la verità è un costo. Allora, se non vuol dire avere il patentino, allora facciamo una lotta per abolire gli ordini. No, no, guardi, per me, guardi, io quando ho chiesto di fare il giornalista, ho dovuto fare l'attività per procura, sono dovuto andare. Però c'erano dei giornalisti, con tutto rispetto, che scrivono per Rackham, uncinetto, che sono giornalisti. Ma io sono stato maladorito, perché nonostante fossero andati i mixer in guerra da tutte le parti del mondo, le inchieste mie io non ero considerato un giornalista, quindi sono stato iscritto per procura. L'ordine mi ha dovuto scrivere per procura, quindi a me il giornalista, vero, non è uno che ha il patentino, lo dirò tutta la vita, è quello che fa un giornalista, l'attività che fa, che distingue un giornalista. Ora, questa è la mia visione. Lei è funzionaria della regione.